L'analisi del voto in casa del centro-sinistra e del PD in particolare lascia a strasci che riflessioni e contrapposizioni. Stefania Pezzopane dopo la sconfitta in una lunga intervista al quotidiano Il Centro dice la sua. La Pezzopane continua a sostenere che ci hanno provato ma che il centrodestra era una falange armata. Secondo la deputata alla sconfitta non scalfisce il suo curriculum. Hanno perso tutti, secondo lei. Per la Pezzopane la vicenda di cinque anni fa alle ultime amministrative pesa. Si è parlato di scontri personali e rivendicazioni ma forse il centro-sinistra non si soffermò troppo sui segnali che arrivavano dal voto. Tradita? No ma negli ultimi giorni qualcosa è successo, dice lei. Non ha spinto sul voto disgiunto e ha dato spazio alle liste. Non vuole sentire parlare però di triade, cioè della fine dell'era Cialente, l'Holli Pezzopane. Un alibi sciocco. Qualcuno le chiede di farsi da parte? No, resto al mio posto, dice. Le decisioni sono state prese sempre insieme. La Pezzopane anche lei auspica però un rinnovamento ma in una lettera diffusa questa mattina parla in cui evocabilmente di tradimenti, colpi bassi e voti disgiunti andandoci un po' più pesante. Nel PD però si respira aria da risa dei conti. Abbiamo perso malissimo, ha detto Pietrucci. Serve una svolta. Molti come me, insiste Pietrucci, avevano provato a unire il centro-sinistra individuando un candidato unico e unitario ma resistenze antiche nuove, recriminazioni oltre ad aspettative personali non lo hanno consentito. Ci va giudurissimo invece Stefano Palumbo che tornerà comunque a sedere nei banchi del Consiglio Comunale. Io ho letto le dichiarazioni di Stefania Pezzopane le trovo davvero offensive per chi come me si è messo a disposizione in maniera leale portando i propri consensi anche sulla propria lista, sulla coalizione e quindi sul candidato sindaco. È stata una campagna elettorale a tratti diciamo umiliante perché si percepiva un'aria di contrarietà alla sua candidatura che è una candidatura che inutile ci nascondiamo è stata voluta imposta da alcune persone e non sicuramente sostenuta dal popolo di centro-sinistra che ha preferito potendo scegliere fare altre scelte e quindi premiare più la proposta di Americo di Benedetto che la nostra. Io credo che sia il tempo di passare dalle parole ai fatti e anche ai gesti. Se veramente si vuole dare spazio al rinnovamento, al cambiamento, un gesto potrebbe essere quello di Stefania Pezzopane di dimettersi e lasciare spazio ad esempio a un candidato che è rimasto fuori, in questo caso Padovani, che potrebbe rientrare un quarantenne e appunto ricominciare insieme a un gruppo di persone che è stato eletto in un percorso di ricostruzione del centro-sinistra. Grazie a tutti.